21-26 novembre Open Week di Fondazione Onda in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Partecipa anche l'Asla VCO. Dal 21 al 24 novembre la struttura operativa complessa di ostetricia e ginecologia diretta dal dottor Alberto Arnulfo mette a disposizione a supporto delle donne vittime di violenza una linea telefonica diretta a cui risponderanno un'ostetrica e una ginecologa per consulenze, visite e colloqui telefonando al numero 0323 54 17 56 dalle 14 alle 16 da lunedì 21 a giovedì 24 novembre prossimi. Obiettivo dell'Open Week è quello di supportare coloro che sono vittime di violenza e incoraggiarle a rompere il silenzio fornendo strumenti concreti e indirizzi a cui rivolgersi per chiedere aiuto. Sono oltre 170 gli ospedali del network Bollini Rosa e centri antiviolenza aderenti all'iniziativa. La violenza di genere è una grave emergenza sociale che necessita della massima attenzione per prevenire e proteggere le vittime di violenza. Servono iniziative mirate a far sì che le donne chiedano aiuto da subito, afferma Francesca Merzagora, presidente di Fondazione Onda. Attraverso questa Open Week vogliamo avvicinare le donne alla rete di servizi antiviolenza che dispongono di percorsi di accoglienza protetta e a progetti di continuità assistenziale e di sostegno.